buongiorno amiche allora oggi corso online di liberty crove che altro non è comunque che una tecnica di paper piecing noi abbiamo realizzato questo campione dove il blocco che andiamo a realizzare è questo ok che si ripete fatto con stoffe diverse e assemblato in modi differenti però è sempre lo stesso blocco questa è la tecnica del cucire sulla carta è una tecnica che vi permetterà di realizzare lavori estremamente particolari magari dove le punte combaciano troverete veramente tanti lavori che si possono realizzare con questa bellissima e divertentissima tecnica